Ciao ragazzi, sono contenta di fare un nuovo video molto vicino all'altro, all'ultimo mi vedete un po' provata perché già vi avevo anticipato nel video dell'altro giorno che sto passando dei giorni un pochino ansiosi e quindi siccome l'ansia tende a stancare anche fisicamente purtroppo perché si consumano un sacco di energie, quindi sommiamo questa cosa dell'ansia più il fatto che questo pomeriggio abbiamo fatto un pezzo di percorso di trekking di circa 40 minuti che mi ha ucciso perché io sono proprio anti atletica al massimo mi trovate così in queste condizioni, sono le 22.34 e spero di riuscire a caricare il video insomma stanotte così potete vederlo quanto prima allora noterete forse, magari no qualcosa, cioè che ho ritagliato i capelli, li ho fatti cortissimi e perché come vi dissi qualche giorno fa, dissi ora non è che c'entri molto passato remoto comunque come vi ho detto qualche giorno fa che avevo il caschetto diciamo qui un po' sbarazzino, sapevo che a breve sarei andata a farmeli tagliare di nuovo perché comunque è l'unico parrucchiere che riesce a farmi questo taglio come piace a me dietro è questo che c'è qua vicino a casa che è un po' caruccio però comunque ne vale veramente la pena perché ha le mani d'oro, 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 d'oro bravissimo, lo adoro, sono troppo contenta di esserci andata quindi ieri dopo pranzo quando ho visto che mi stava cadendo sulle spalle l'ennesimo capello perché io non sopporto perdere i capelli specialmente adesso che fa caldo ne perdo tanti ho chiamato dopo pranzo e ho detto che volevo un appuntamento con lui per il taglio perché nello stesso salone ci sono due parrucchieri, sono due soci, solitamente una persona quando inizia con uno poi continua con uno a meno che a una persona non importi niente allora li può tagliare anche con l'altro però io prendo sempre l'appuntamento con lui, l'altro non l'ho mai provato, è sicuramente bravissimo e l'altro tra l'altro fa i capelli alla mamma, a mia suocera però io sono partita da subito con l'altro, insomma con uno dei due quindi vado sempre da lui perché mi piace veramente tanto come me li fa e niente ho chiamato, mi serve un appuntamento con lui per favore e mi ha risposto il collega e mi ha detto guarda per oggi non c'è posto io ti prego devo fare un taglio velocissimo e mi ha detto qua l'altra mezz'ora ce la fai a essere qui o sì sì qua vicino sono andata a piedi quindi sono andata a farmi questi capelli e sono troppo contenta perché sto sto scusate oddio sto bella fresca sto alla grande proprio sono troppo felice sono bella bella libera sono comodi perché poi li lavo si asciugano subito è una sensazione fantastica nonostante io comunque adoro i capelli lunghi mi piacciono tanto allora bando alle ciance dunque innanzitutto saluto prima di dimenticarmi di nuovo sirenetta ariel che povera stella mi ha chiesto di salutarla qualche giorno fa e io le ho risposto guarda me lo segno così nel prossimo video ti saluto poi invece non l'ho segnato e mi sono dimenticata quindi recupero adesso ciao sirenetta grazie per tutti i commenti carini che mi scrivi e questa volta mi sono ricordata quindi mi devi perdonare assolutamente e ti mando un bacio enorme e in questo video avevo pensato di farvi vedere una cosa che per me è molto importante come vi ho accennato nell'ultimo video qui c'è un pacchetto che a vederlo sembra anche neutro ci potrebbe essere qualsiasi cosa dentro ma in realtà ha un valore inestimabile perché questo è un regalino che mi ha fatto una ragazza adorabile che segue i miei video e alla quale mando una quantità infinitesimale non scherzo infinitesimale vuol dire piccola giusto? sì una quantità infinita diciamo così di baci e per ringraziarla davvero perché mi trovo in difficoltà quando ricevo un dono così prezioso e non so proprio come ringraziarla perché secondo me è impossibile ringraziare a parole quindi diciamo così spero ops si è spento tutto spero di ricambiare questo suo dono con i miei video e comunque con la mia compagnia visto che siamo anche amiche su facebook e davvero sono troppo contenta emozionata perché ricevere un omaggio un regalo da una persona che segue i miei video a parte che è un'esperienza nuova e poi non so neanche come spiegarlo è estremamente bello gratificante non so nemmeno davvero come dirlo comunque questa bella scatolina che era ovviamente accompagnata da dei bigliettini che vi faccio giusto vedere così ovviamente non vi farò leggere perché sono cose personali bigliettino rosa tutto scritto a mano molto carino e naturalmente anche un bigliettino da visita e anche dunque che cos'è questo no questo non è del pacchetto ma c'è un'altra cosa qui se riesco a prenderla magari è una grande cosa ecco sta cascando tutto e ora faccio un casino pazzesco ecco allora in questo bigliettino c'è scritto questo è un prodotto artigianale creato esclusivamente con carta protetta da vernice ad acqua per garantire una buona durata nel tempo si consiglia di evitare il contatto con acqua saponi detersivi non giudare o sfrecare conservare l'uomo asciutto eccetera eccetera insomma quindi è qualcosa di completamente handmade e sono le cose che a me piacciono di più perché sono proprio create con con l'amore con con la passione e c'è una cosa veramente bellissima che tra l'altro invidio anche perché io non ho assolutamente una vena artistica in questo senso comunque diciamo che questa fantastica ragazza involontariamente cioè senza saperlo ha proprio centrato una mia fissa debolezza o comunque fissazione da un punto di vista di bijou e mi ha mandato due bellissime paia di orecchini un modello lungo così ve lo faccio vedere bene da vicino è un modello invece a bottone quindi che rimane sul lobo così questi a bottone sono fucsia e questi lunghi invece sono grigi ora mi tolgo i miei e vi faccio vedere questi sono quelli che ho io che ho messo io questo pomeriggio allora vediamo un po' senza fare danni modello lungo tra l'altro mi piacciono perché a me a parte che piacciono gli orecchini a prescindere ma poi sono due colori che io adoro e che posso indossare praticamente con tutto in più sono orecchini che stanno bene ora non l'ho agganciato perché perché mi devo guardare bene allo specchio per farlo perché ecco ce l'ho fatta queste modelle lunghe dicevo sono due paio di orecchini che posso usare sia con un abbigliamento abbastanza sportivo perché chi mi conosce sa che io proprio non vesto mai elegante però anche in occasione un po' più elegante specialmente questo lungo sta bene con qualcosa di più di meno sportivo ecco sono bellissimi invece da questa parte vi faccio vedere il modello a bottone naturalmente in descrizione vi metto tutti i link per trovare questa preziosa ragazza perché i suoi fantastici bijou che sono tantissimi non solo questi orecchini si possono acquistare naturalmente ordinare e lei li spedisce volentieri ecco questo è il modello a bottone purtroppo il colore non rende perché la luce fa schifo in questo momento mi dispiace io per ora per uscire ho indossato solamente questi ma appena ho l'occasione metterò anche questi tra l'altro sono fantastici perché sono leggerissimi non si sentono nemmeno quindi non danno per niente fastidio ci si dimentica di averli li adoro sono troppo contenta a parte che sono bellissimi è davvero nel mio stile ma poi il fatto che siano un dono li rendono ancora più speciali e penso che sarete sicuramente d'accordo ok ora li ripongo nella scatolina perché perché li tengo qua nella sua scatolina originale non li mischio con altri tanto con una scatolina piccolina che non non occupa neanche spazio e quindi che dire sono troppo contenta andate a farvi assolutamente un giro sulla sua pagina per vedere tutto quello che crea perché crea tantissime cose carine e veramente in quello stile facilmente indossabile da tutti anche da chi non ama le cose molto vistose davvero qua ci sono tutte le informazioni che vi lascerò giù nell'info box creazioni artigianali bijoux pomponiere oggetti di arredo unici originali in carta legno sassi pasta di mais dipinti esclusivamente a mano e una cosa molto importante è che sono tutti creati con il rispetto assoluto della natura questa è una cosa molto importante il dinotto da visita molto carino si chiama basaria creations ma vi lascio comunque tutte le informazioni qua sotto ragazzi prima che il video diventi eccessivamente lungo visto che lo voglio caricare in serata vi mando un bacio vi ringrazio come sempre per tutto il supporto che mi avete anche mostrato nei commenti all'ultimo video avervi in un certo senso vicino è davvero tanto rincuorante tanto soddisfacente gratificante e posso dirvi che scusate ho un capello posso dirvi che sono sempre più contenta di aver aperto questo canale youtube sono davvero tanto tanto contenta perché non mi aspettavo così tanto amore e così insomma così tanti complimenti c'è davvero un'esperienza bellissima che auguro a tutti quanti un bacio ragazzi e per quanto mi riguarda tra poco buonanotte e per quanto